Benvenuta all'onorevole Sabrina Pignedoli, parlamentare europea, capolista del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione nord-est, con cui iniziamo questo giro di interviste con esponenti delle varie forze politiche in vista delle elezioni europee. Quali sono le priorità per il Movimento 5 Stelle e per la prossima legislatura europea? Buongiorno a tutti, sicuramente per noi è prioritario la pace, l'abbiamo messo anche nel simbolo e questo sarà il nostro filo conduttore, ma poi ci sono delle priorità che arrivano anche dalla legislatura passata, quindi continuare nel solco del Green Deal, quindi cercare di portare avanti questa sfida per la transizione ecologica e ambientale e poi chiaramente la transizione digitale è un altro elemento molto importante, se pensiamo soprattutto anche alle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale. Un altro elemento sicuramente è quello di avere un'Europa che sia più vicina ai cittadini. Abbiamo visto alla fine di questa legislatura il ritorno all'austerity, noi vorremmo un'attenzione maggiore ai cittadini e alle loro esigenze, quindi un'Europa più sociale. Voi volete la pace e siete contrari al sostegno militare all'Ucraina, ma non c'è così il rischio che poi vinca la Russia, che la pace evidentemente non la vuole avendo aggredito l'Ucraina? Beh, in questi due anni insomma si sta dimostrando che l'invio delle armi non sta avendo i risultati che chi inviava le armi sperava. Noi siamo sempre stati contrari e credo che i fatti ci stiano dando ragione. Un accordo di pace era già stato trovato poco dopo l'inizio della guerra in Turchia, però poi l'Ucraina è stata indotta, diciamo così, a non sottoscrivere questo accordo. Io credo che comunque gli accordi vadano trovati con il nemico e quindi è vero, sarà difficile parlare con la Russia, ma più va avanti questa guerra, più l'Ucraina si trova in una posizione di debolezza. E quindi diventa molto difficile riuscire poi a trovare un accordo. Bisogna cercarlo il prima possibile. L'Europa dovrebbe avere questo ruolo di garanzia e di capacità negoziale tra i due stati che purtroppo in questi anni non ha avuto. Ecco, ma non l'ha avuto perché non c'è una politica estera di difesa europea. Voi sareste favorevoli a crearla e cosa proponete in tal senso? Noi siamo assolutamente favorevoli a una difesa comune europea, una difesa comune che però non deve essere una militarizzazione dell'Europa. Cioè la difesa comune deve avere il ruolo proprio anche di ridurre la spesa militare per fare acquisti comuni e soprattutto non deve essere una sovrapposizione con gli eserciti degli stati membri. È chiaro che una difesa comune deve avere anche una politica estera comune, altrimenti poco serve una difesa che non sia collegata a una politica estera comune. Capisco che sia anche molto difficile perché ci sono 27 stati diversi che la pensano in maniera differente. Sarebbe importante invece cercare di avere una visione comune basata su quella che sono sostanzialmente i valori dell'Europa. L'Europa è nata per la pace, quindi partiamo da questo presupposto e cerchiamo di essere dei capisaldi per il dialogo e la negoziazione nelle varie zone del mondo dove appunto ci sono dei conflitti. Lui ha detto che la finalizzatura è tornata all'austerity, immagino si riferisse al nuovo patto di stabilità e crescita, ma voi cosa proporreste invece? Pensate che l'Unione Monetaria possa reggere senza nessun vincolo alle finanze nazionali o cosa proponete al loro posto? No, noi non crediamo che non servano vincoli alle spese e tutto il resto. Noi crediamo però che ci siano alcuni investimenti che debbano essere scorporati dal patto di stabilità. Per esempio, le spese per la transizione ecologica e la transizione digitale. Queste dovevano essere scorporate per fare in modo di lasciare agli stati quel margine di manovra per aiutare le imprese e aiutare le famiglie in questo percorso e nello stesso tempo non tagliare i servizi come scuola, sanità, cultura che invece vengono offerti ai cittadini. Purtroppo l'unico scorporo di spese che è stato fatto in questo patto di stabilità è quello delle spese militari, che secondo noi va contro assolutamente la visione appunto sociale e pacifica della nostra Europa. Ma voi sareste favorevoli allo scorporo degli investimenti fatti a livello nazionale oppure preferireste un'opzione tipo Next Generation EU, cioè che questo tipo di investimenti vadano fatti tutti insieme a livello europeo? E in quel caso come finanziarli? Abbiamo già visto con la questione del Covid che è possibile fare debito comune europeo. Noi crediamo più a una... Allora sarebbe meglio avere un investimento comune europeo chiaramente, però anche in mancanza di questo va bene anche lo scorporo delle spese degli stati. L'importante è lasciare un po' di ossigeno diciamo così per questo momento di transizione che sicuramente non è facile sia per le famiglie che per le imprese e il rischio poi è proprio quello di tagliare nei servizi. Noi non vogliamo andare in questa direzione. Meglio quindi una visione comune, quindi un investimento comune tipo Next Generation, ma in mancanza di questo va bene anche una possibilità data agli stati. Il Parlamento europeo nel novembre scorso ha votato una proposta di riforma complessiva dei trattati che voi avete sostenuto, ma il Consiglio europeo finora non ha nemmeno discusso la convocazione di una convenzione di riforma dei trattati per discutere la proposta approvata dal Parlamento. Vi impegnate a non votare nessun candidato alla presenza della Commissione proposto dal Consiglio europeo finché questo non abbia convocato una convenzione di riforma dei trattati e rispettato quelle proposte del Parlamento e della Conferenza sul futuro dell'Europa? Ne stiamo parlando rispetto a questo, chiaramente anche perché noi lo chiediamo da tempo, il Parlamento dovrebbe avere più potere, è l'unico organo eletto dai cittadini e non ha potere di iniziativa legislativa, ce l'ha la Commissione solamente e poi anche la riforma dei trattati se andiamo in un'ottica di allargamento sarà necessario chiaramente pensare di togliere l'unanimità, anche perché se allarghiamo anche per esempio adesso si parla dell'allargamento ai paesi balcanici, più diventa grande l'Europa, più diventa difficile sostenere un'unanimità in Consiglio per poter portare avanti le politiche europee, diventa veramente sostanzialmente ingestibile questa Unione Europea per cui bisogna riuscire a passare anche la questione dell'unanimità. Mi rendo conto che non sia semplice soprattutto questo passaggio, mentre vedo più semplice quello di riuscire a dare al Parlamento anche un potere di iniziativa legislativa, quello dell'unanimità sui trattati lo vedo più difficile. I tentativi del Movimento 5 Stelle di entrare a far parte di una delle famiglie politiche europee in questa legislatura non sono andati a buon fine. Perché? Riuscirete nella prossima legislatura ad accasarvi in uno dei gruppi parlamentari delle grandi famiglie politiche europee? Sì, questa è una delle domande che mi vengono fatte più spesso anche dai nostri attivisti, chiaramente. Le difficoltà sono state soprattutto legate a pesi all'interno di alcuni gruppi che hanno preferito non esporsi troppo su alcune questioni, come per esempio anche la pace. Noi abbiamo già delle interlocuzioni importanti in corso e stiamo aspettando appunto l'arrivo della nuova legislatura per portarla a termine. Sarà sicuramente nel campo progressista e siamo, auspichiamo, insomma, siamo molto determinati ad entrare in un gruppo e sappiamo che abbiamo le carte per poterlo fare. Grazie all'onorevole Sabrina Pinedoli per la sua disponibilità. Bocca al lupo anche a lei per la sua campagna elettorale. Grazie a voi.